Questa cabina di regia che abbiamo messo in piedi cercando di comprare prestazioni all'interno incentivando i nostri medici e operatori a lavorare internamente con un rapporto libero versionale con la regione, oltre a quello a tempo indeterminato, piuttosto che l'accesso anche ad altre forme di erogazioni di servizio ci permesso di affrontare assolutamente questo immane problema che è quello della lista d'attesa. La curva delle prestazioni in attesa sta scendendo, dicono i grafici illustrati a Palazzo Balbi. Le liste d'attesa, un problema storico della sanità anche veneta, ingigantito dai ritardi dovuti alla pandemia, stanno iniziando a calare. Dal maggio 2023 a quello dell'anno successivo, le prestazioni da garantire entro 10 giorni dalla prescrizione sono passate da 502 a 0. Quelle con priorità di 30 giorni sono passate da quasi 83.000 a quasi 14.000, pari all'83% in meno. Quelle da 60-90 giorni da 74.000 a 28.000. Le attese più importanti ce le abbiamo ad esempio sulla oculistica, dove non abbiamo professionisti, dove nei concorsi i professionisti non riusciamo ad assumerli perché non si presentano. E ripeto, facciamo un concorso ogni tre giorni. L'altra specialità è quella della dermatologia, dove anche lì c'è più attesa e dermatologi non ce ne sono, informazioni ce ne sono pochissimi e questo creano pochi problemi. Nella gestione delle visite per combattere le liste d'attesa sta giocando un ruolo di crescente importanza anche l'intelligenza artificiale. Stiamo sperimentando, abbiamo ormai completato un modello di utilizzo dell'intelligenza artificiale per far sì che a fronte della programmazione da parte dello specialista di una serie di indagini che devono naturalmente precedere poi la valutazione di controllo, l'intelligenza artificiale ci aiuti, aiuti i personali di front office a individuare le date in modo tale che gli esami siano messi in sequenza corretta prima della visita di controllo con le date e gli appuntamenti già fissati in modo tale non soltanto sia una sequenza corretta ma il cittadino non deve più tornare per la prescrizione.